Uno degli aspetti che proprio non riesco a digerire di Windows 11 è questo maledetto allineamento al centro della barra delle applicazioni anche perché si viene a creare questo fastidioso effetto di movimento ogni volta che andiamo ad aprire e chiudere un'applicazione che non sia bloccata sulla barra delle applicazioni stessa. Fortunatamente risolvere questo problema è veramente molto facile, ci basta cliccare in un punto libero della barra stessa, cliccare impostazioni della barra delle applicazioni, scorrere un po' verso il basso fino a raggiungere la sezione comportamenti della barra delle applicazioni. A questo punto possiamo individuare nella voce allineamento barra delle applicazioni e selezionare a sinistra per ritornare ad una impostazione molto più tradizionale e molto più comoda. Bene, al prossimo video, ciao!